Ciao ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! E oggi decoreremo la mia stanza per Natale! Allora ragazzi, come vedete, sono con queste corno da renna troppo carine che ho comprato da H&M, veramente adorabili e come vedete ci sa un sacco di roba per decorare l'albero e anche un pochettino la mia cameretta e come vedete ho già decorato un po' con questo alberello rosa troppo 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 carino veramente adorabilissimo con quel fiorellino in cima e poi questa ghirlanda veramente molto carina Ok ragazzi, questo è il mio alberello è tutto quanto per me è un po' piccino, però quello più grande non sta in camera mia Allora, ho già messo questo unicorno troppo carino rosa in cima, tipo come stella, angelo veramente carino e poi ho messo questa ghirlanda bianca e argentata troppo belle, con le luci Poi ci sta questa calza con il My Little Pony troppo carino, veramente bellissimo con questo che l'ho cambiato e l'ho fatto diventare Merry Christmas con questi unicorni e anche qui c'è un unicorno e anche là c'è un pony quindi devo dire che mi piacciono molto i cavalli e gli unicorni e va bene, adesso decoriamo un po' questo bell'alberello Ok ragazzi, adesso come prima cosa mettiamo questo dolce veramente carino che è il mio preferito in assoluto troppo carino lo mettiamo al centro dell'albero tipo qua ok così è bello in mostra così è veramente perfetto ok ora mettiamo questo qua così è un po' più lontano da questo e non è brutto che ci stiamo troppe cose uguali vicine adesso questo qui invece no, spero che non si ok mettiamolo qua ok così è perfetto bellissimo ok adesso mettiamo dei cuoricini troppo carini sono davvero fini troppo belli aspettate ho fatto cadere il coso che lo mantiene adesso non lo troverò più quindi tagliamo adesso lo trovo e quindi niente aspetta un piccolo problemino ok ragazzi l'ho trovato sarebbe stato pericoloso eh sarebbe stato pericoloso lasciarlo per terra ok così adesso mettiamolo qui se ci riesco se ormai già il Natale non sarà passato ok adesso mettiamo questo e comunque sapete una cosa adesso tolgo questo coso perché mi sta facendo venire un mal di testa incredibile comunque la mia festa preferita oh questo non è ancora comunque la mia festa preferita è sicuramente il Natale anche la Lumi mi piace molto però il Natale è proprio super ai limiti lo do tantissimo e invece sono molto curiosa di sapere quale è la vostra festa preferita quindi commentate e ditemi un po' anche tipo cosa desiderate per Natale io invece desidero la PS4 da tantissimo tempo perché mi piace molto giocare a Fortnite ok allora mettiamo queste palline così color perla bellissime ancora qui su quest'anno meglio comunque sapete quest'anno per Natale vado a Parigi e non ci sono mai state in vita mia però da quando ero piccola ho sempre sognato di andarci nei cartoni animati film ho sempre detto guarda Parigi quanto vorrei andarci mamma un giorno mi porti lì e infatti quest'anno finalmente ci vado e non vedo l'ora di vedere un po' come è fatta ah giusto questo coso non ha niente quindi scartiamolo ok canestro ok allora adesso mettiamo questo bellissimo pony troppo carino bellissimo proprio qui sopra da una parte mettiamolo qua è carinissimo qua ah lo visto al controllo che bello ok così è perfetto ok vediamo un po' altri pony lo stesso mi facciano troppo sono troppo carini ok mettiamolo qui così sembra che sta pure sopra un ramo carino ok e poi l'ultima pony che è lo stesso e questi qua avevano pure il cappello però purtroppo l'ho perso quindi però fa niente sempre carino e questo mettiamolo qua sopra così così è bellissimo proprio e va bene adesso questo qui davvero troppo bello che sta tipo bene con questi possiamo metterlo qua no qua così ok ok mettiamo lo stesso invece qua dietro se no se no si riempie un pochino ok ok adesso ragazzi metto uno dei miei preferiti cioè che sarebbe questo ecco questo qui davvero bellissimo mi piace tantissimo sapete perché perché c'è scritto il mio nome Sofia però con la PH mi raccomando Sofia non Sofia quindi la metto che deve essere bello in mostra no qui sta solo il collo ah così è perfetto bellissima così mi piace tantissimo ok adesso vediamo un po' la decorazione preferita di mia madre tan 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 Hello Kitty le piace tantissimo Hello Kitty infatti pure la mia stanza è piena di Hello Kitty perché mi ha fatto venire anche a me la febbre degli Hello Kitty quindi mettiamo questo bellissimo Hello Kitty qui così è bello in mostra carinissimo poi pure morbido troppo carino Hello Kitty che sta scartando i regali ok ora vediamo Frosty the snowman cioè il pupazzo di neve dei cartoni animati con la canzone Frosty insomma troppo carino adesso mettiamolo qui da qualche parte è tipo un peluche troppo bello dove possiamo dove ti mettiamo Frosty vediamo così sta accadendo allora mettiamolo ragazzi è meglio che lo metto qua dietro perché poi intanto non c'è niente molta roba non lo vedete però sta qui bello in mostra quindi bellissimo questo qui sembra una specie di gemma molto carino mettiamolo in alto in alto ci stanno un sacco di cose schizziose piccine ok allora ragazzi questi qua erano miei quando ero piccola sono set da te carinissimi e sono di Barbie infatti come vedete qui c'è Barbie che vi saluta ciao ragazzi e niente ho deciso però di metterli sul mio alberello di Natale perché sarebbero venuti carini così quindi mettiamoli da qualche parte qua no forse è meglio sono un po' grandi quindi occupano un sacco di stanzi perfetto ok questo posso metterlo qui ok così è proprio perfetto poi questo qui gigante non so se lo metto di Barbie non lo con la Barbie che vi saluta ciao di nuovo però non so dove posso metterlo posso metterlo un po' più grande però vabbè diciamo ok ragazzi come vedete l'albero è tutto finito è bellissimo mi piace troppo e come vedete tipo certe cose ne ho messo troppo in mostra tipo questo era troppo carino purello kitty e il mio Sofia preferito e mi raccomando ragazzi Sofia non Sofia e si è venuto veramente molto bene va bene ragazzi spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video e se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete iscrivetevi al mio canale perché in questi giorni farò un sacco di video per Natale ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi have a holy jolly christmas